Un attimo di distrazione, un giramento di testa, un'imprudenza. Non è ancora chiaro il motivo per il quale un uomo di 50 anni è caduto di testa dentro un pozzo a Monsumano Terme, in provincia di Pistoia. Così è morto Marcello Baldini. Il corpo è stato ritrovato da alcuni vicini e dagli operai di una ditta edile che stavano lavorando nelle vicinanze. A quel punto è stata anche avvertita la moglie, che aveva appena accompagnato la figlia di 13 anni a scuola. L'uomo era residente a Serravalle Pistogliese, un comune qui poco distante ed era venuto qui a Monsumano dall'anziana madre di più di 80 anni ed era venuta ad aiutarla perché c'era qualcosa che non andava nel pozzo di casa sua. Il pesante coperchio di cemento era stato sollevato dalla stessa vittima che da solo stava guardando da fuori l'apertura. Poi la caduta di testa in quel pozzo pieno d'acqua, il ridotto diametro però, non ha permesso all'uomo di girarsi e di far riaffiorare la testa fuori dall'acqua. E' stato uno dei vicini di casa ad aver visto il telefono di cellulare delle cinquantenne appoggiato appena fuori dal pozzo. A quel punto ha capito e ha dato l'allarme. Vedo, sono il telefono qua, dici, vicinanti. Però mi vergogna se dici era in pozzo. Io dici sempre magari che non è in pozzo. Però era, era. Loro molto bravo, mi dispiace, non è cattivo, operaio buono. Che deve fare? Mi dispiace tanti per loro. Sul posto il nucleo subacqueo dei vigili del fuoco di Pistoia e i carabinieri di Monsummano. I primi hanno lavorato ore per estrarre dal pozzo la vittima. La madre, saputo della tragedia, ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale.